Lo scorso 30 settembre si è conclusa la seconda edizione del progetto Spazio per la Famiglia, gestito dal Copros, come azione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva, piano povertà, finanziato dalla Regione Calabria, voluto e sostenuto dalle amministrazioni comunali del distretto sociale di Mesoraca, che hanno riconosciuto la grande importanza del progetto. 12 mesi in cui sono stati individuati e organizzati percorsi individuali e di gruppo per i nuclei familiari e minori che spaziano dal supporto scolastico all'attività di manipolazione e creatività con progetti mirati che abbracciano un ampio raggio d'azione, dal gioco alla socializzazione, alla gestione delle emozioni. Durante l'anno si sono sviluppate una serie di azioni finalizzate all'elaborazione di progetti che hanno coinvolto anche gli adulti, rendendo gli stessi agenti partecipativi e protagonisti dei laboratori. Le famiglie viste non più come semplici e fruitrici di prestazioni, ma come risorse protagoniste del cambiamento. Nei mesi estivi poi i bambini, ragazzi e giovani dei cinque centri hanno avuto la possibilità di condividere un percorso educativo naturalistico che li ha portati prima in varie zone del Parco Nazionale della Sila e poi a visitare l'area marina protetta di Caporizzuto. Lo spazio per la famiglia è già ripartito nella sua terza edizione, con una serie di attività di base già previste, altre in continuità con la precedente annualità e altre che verranno annunciate a breve. Verranno nuovamente attivate delle iniziative aperte alle intere comunità dei comuni del distretto, volte al coinvolgimento di tutti i cittadini, per contrastare l'isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà.